A partire da oggi, 1 febbraio, fino al 22 febbraio, sono aperte le iscrizioni per la scuola dell'infanzia e per le sezioni di raccordo del Comune di Fano. Con una novità importante quest'anno, e cioè sarà possibile per la prima volta iscriversi con i servizi online. Andando sul sito del Comune di Fano, sarà infatti possibile, alla voce Servizi Online, poter trovare tutta la modulistica e fare direttamente online l'iscrizione dei propri figli ai servizi di infanzia e di raccordo. È una novità importante che si somma a quella già attivata a settembre per il trasporto scolastico e che a maggio metteremo ovviamente, diciamo così, in essere anche per le iscrizioni del nido e del nido estivo. È una novità importante per venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei lavoratori e soprattutto un modo per rendere ancora più diretto e trasparente il rapporto dei cittadini con il Comune e le istituzioni. Ci aspettiamo di non avere problemi di liste di attese, come era invece 10-15 anni fa, quando la nostra città ha conosciuto una crescita impetuosa, anche dal punto di vista demografico, oltre che urbanistico, e siamo anche sicuri di riuscire a dare una risposta positiva a tutte le richieste e le aspettative delle famiglie, anche perché i servizi che abbiamo sono comunque articolati sull'intero territorio comunale e la risposta che abbiamo da parte delle famiglie ogni volta è molto positiva rispetto alla qualità di questi servizi. Siamo fiduciosi che anche quest'anno i risultati saranno molto buoni.